In tanti paesi c'è l'abitudine che quando il giorno di Pasqua si ascoltano le campane, le mamme, le nonne portano i bambini a lavarsi gli occhi con l'acqua, fare un segno di poter vedere le cosse di Gesù, le cose nuove. Quindi, lasciamoci in questa Pasqua lavarci l'anima, lavarci gli occhi dell'anima per vedere le cose belle e fare delle cose belle. Questa è proprio la risurrezione di Gesù dopo la sua morte. E vi consiglio, la mattina di Pasqua portate i bambini al rubinetto e farli lavare gli occhi. Sarà un segno di come vedere Gesù risorto. Grazie.